vai 20 sinistra vai lascia in schiola sinistra 5 corta su ritardo a destra 2 per sinistra 2 più corta per sinistra vai in destra 5 doppia su sinistra vai su sinistra 3 90 su sinistra 3 90 su destra 6 lunga poi diventa 6 in sinistra 6 corta per destra 6 sul dorso credici 20 destra 3 corta su sinistra 3 in sinistra 3 più occhio interno occhio interno in destra 3 corta su destra 5 vai 20 sinistra vai in attenzione destra 0 90 leva sinistra vai 20 alle sette ritardo a poco destra 3 chiude su sinistra vai ok no lo so ma perro destra 6 su sinistra 6 credici per stacca shikan destra in sinistra 0 leva e inizia lo stretto in sinistra vai su destra 5 in schiola sinistra 4 corta su destra 5 vai 20 destra 4 chiude no su sinistra 4 vai 20 20 schiola sinistra 5 per sinistra vai per destra su sinistra 4 d'ossata per destra 5 in sinistra 4 su destra 5 sconnessa poco lunga per ritardo a destra 5 su su sinistra 5 su destra su sinistra 4 corta per destra 4 in sinistra 4 meno per dosso lungo dritto su destra 4 su sinistra 4 stretta per destra in sinistra vai qua eh in sinistra vai in destra 6 20 destra su sinistra 4 chiude sconnesso su destra 2 no su tornante sinistro ui 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 in ritarda tornante destro non leva tondo per destra vai in sinistra 2 tondo in attenzione destra diventa 0 chiude leva per destra vai 30 vai 30 vai 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 e stop cosa c'è dietro c'è di ma appena appena no lì non vedo niente perché mi devo mollare